Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, nel video di oggi vorrei affrontare un argomento di quelli che mi viene più chiesto ogni volta che faccio un sondaggio, ogni volta che faccio delle domande all'interno del gruppo Telegram. Una delle domande più frequenti in assoluto è come faccio a trovare clienti o a generare lead? Quindi oggi inizierò a provare a farvi una panoramica generale di quali sono le strade con cui si possono trovare nuovi clienti o generare nuovi lead e poi cercherò di approfondire questi argomenti in una serie di video perché ovviamente è impossibile fare una guida completa in un unico video. Quindi oggi vedremo quali sono i mezzi che il digital marketing ci mette a disposizione per aumentare le vendite, per generare lead e poi vorrei provare a dirvi cosa farei invece io oggi se dovessi partire completamente da zero per trovare dei clienti o per generare dei lead. Se poi volete approfondire ancora di più questi argomenti io vi invito sia a iscrivervi alla mia newsletter che trovate qua in descrizione sia a scoprire Scientific Selling che è il mio corso proprio per imparare a vendere i propri servizi digitali. Comunque torniamo a noi. Semplificando all'interno del digital marketing abbiamo tre opzioni per poter promuovere quello che è il nostro sito o quello che è insomma il nostro servizio o il nostro prodotto. Il primo modo è quello che riguarda l'ottimizzazione per i motori di ricerca ovvero la SEO. Se io ho un sito web oppure anche un canale YouTube in realtà posso lavorare con i miei contenuti per cercare di posizionarmi in buone posizioni all'interno dei motori di ricerca. E qua c'è tutto lo studio della SEO, delle keyword di come posizionare un articolo o un video in modo tale che se qualcuno cerca ad esempio agenzia di digital marketing io compaio tra i primi risultati. Il secondo modo invece è il social media marketing quindi creare contenuti all'interno dei social media crearsi un piano editoriale di contenuti e cercare di crescere all'interno di un social. E il terzo metodo è invece la pubblicità a pagamento. Ognuno di queste strade ha i suoi pro e i suoi contro. La SEO infatti, ovvero l'ottimizzazione per i motori di ricerca è un metodo molto efficace sul lungo periodo ma molto molto lento. Ci vorrà tantissimo tempo prima che un nostro sito o un nostro canale YouTube inizi a posizionarsi all'interno delle ricerche inizia a ottenere molto traffico quindi molte persone che visitano il nostro sito o il nostro canale. Il lato positivo però è che se lavoriamo bene sul lungo periodo stiamo costruendo un asset molto molto solido. Perché? Perché non dovremmo pagare per il traffico che abbiamo generato o che stiamo generando. Quindi genereremo sia traffico che lead perché ovviamente dovremmo inserire il nostro form per raccogliere i contatti dei visitatori del nostro sito in modo, tra virgolette, gratuito. Nel senso che il costo, in questo caso, più che un costo economico, è stato un costo in termini di tempo. In termini di tempo e competenze che abbiamo investito dietro al nostro sito per far sì che dopo un anno, due anni, sia posizionato benissimo online. Il social media marketing invece ci richiede di scegliere un social, supponiamo ad esempio Instagram, crearci una scaletta di contenuti e poi iniziare la nostra crescita e quindi crearci un pubblico all'interno di questo social. In questo caso la crescita dipende molto da quanto siamo bravi a fare ricerca di mercato. Per quanto riguarda la SEO, la ricerca di mercato è fondamentale, ma i tempi della SEO sono mediamente lunghi. Sui social invece, se siamo particolarmente creativi, abbiamo capito quali problemi analizzare e abbiamo trovato un modo innovativo e originale e intrattenente di pubblicare i nostri contenuti, allora è possibile crescere anche relativamente in fretta. Ci sono tantissimi casi che vi porterò e che porterò anche all'interno di Scientific Selling di persone che lavorano con noi che sono cresciute molto rapidamente sui social. Perché? Perché sono riusciti a trovare un format che gli ha permesso di catturare l'attenzione e di crescere molto velocemente. Quindi anche in questo caso il nostro costo, più che in termini di soldi, è in termini di tempo, effort e studio e creatività. Mettiamolo anche così. Il terzo metodo poi è la pubblicità a pagamento. La pubblicità a pagamento, quindi ad esempio fare ads su Facebook, fare ads su Google, fare ads anche su TikTok, è senza dubbio il modo più veloce per ottenere contatti e ottenere visite al nostro sito. Perché io pago, faccio vedere degli annunci pubblicitari a quello che è il mio pubblico e posso riuscire a crearmi un pubblico relativamente in fretta. Ovviamente il contro di questa strada è che a nessuno piace la pubblicità. Questa è la verità. Quindi anche in questo caso bisogna imparare a lavorare molto bene di copy, molto bene di angoli comunicativi. Quando lavoriamo bene di copy però possiamo fare lead generation, quindi ottenere lead tramite pubblicità a pagamento in modo molto efficace. Se fossi un'agenzia sicuramente proverei a fare annunci pubblicitari all'interno di Google Ads, quindi cercando di prendermi contatti, andando a intercettare le ricerche che le persone fanno su Google, ma proverei senza dubbio anche a fare pubblicità all'interno di Facebook, all'interno di LinkedIn. Dopo bisogna testare un po' le piattaforme per trovare quella dove è più probabile che troviamo il nostro pubblico. Comunque la strategia ideale, qualunque sia il nostro servizio o prodotto, è quella di mischiare queste tre strade. Lavorare sia di SEO, lavorare di social media marketing e lavorare di pubblicità a pagamento. Il punto chiave però più importante che ci tengo a sottolineare all'interno di questo video è che il fattore più importante oggi, più che mai, per riuscire a generare vendite, per riuscire a generare lead, è la fiducia. In un'epoca in cui chiunque di noi può scegliere esattamente da chi comprare nel giro di due click, perché noi se non ci piace una maglietta su e-commerce, in pochi secondi entriamo in un altro e-commerce se compriamo dal nostro brand preferito. La fiducia che il nostro brand riesce a costruire verso il nostro pubblico diventa uno dei fattori più importanti in assoluto. Le persone comprano da un brand ormai oltre perché sono affezionati a quel brand, perché si fidano di quel brand. Uno dei problemi veri quando si parte da zero, quindi quando si costruisce qualcosa di nuovo, è che non abbiamo nessun tipo di fiducia nei confronti del nostro pubblico. Se abbiamo un e-commerce che nessuno conosce con un brand che nessuno conosce dovremmo sempre chiederci perché qualcuno dovrebbe comprare da noi anziché comprare da Amazon o anziché comprare dal suo brand di magliette preferito da cui ha sempre comprato. Questo è il vero ostacolo del mondo di oggi. E come si supera il problema della fiducia? Attraverso il rapporto umano. Uno dei motivi per cui dico sempre che costruirsi un personal brand è uno strumento molto importante oggi, non fondamentale, però posso rischi di pensare che sia fondamentale, è proprio per il fatto che mettere un volto umano dietro un servizio, dietro un prodotto, aiuta tantissimo a creare fiducia dietro quel prodotto e servizio. Noi tendiamo a fidarci di più delle persone di quando vediamo un volto dietro un'azienda piuttosto che quando non riusciamo a vedere nessuno. In questo modo abbiamo l'impressione che se avremo un problema ci sarà qualcuno pronto a risolverci. Il nostro obiettivo, sia quando lavoriamo di SEO, sia quando lavoriamo per crescere all'interno di un social, sia anche quando lavoriamo di pubblicità a pagamento, uno dei nostri pallini deve essere quello di costruire fiducia con il nostro pubblico. Cercare di costruire un rapporto più umano possibile. Questo significa tante cose, significa rispondere in modo personale a tutti i commenti, le domande, i dubbi, le obiezioni che ci vengono fatti, significa aiutare il nostro pubblico anche in veste gratuita, in certi casi ovviamente, dopo qua dipende da caso a caso, per costruire un rapporto di fiducia. Perché oggi più che mai fiducia uguale a vendita. E questo è il punto più importante. Nei prossimi video cercherò di approfondire anche aspetti un po' più tecnici. Ho già fatto qualche video, ve lo lascio qua sopra in descrizione se volete approfondirlo. Comunque cercherò di approfondirlo anche più avanti. Un'ultima cosa, prima di chiudere il video di cui ci tenevo a parlare, è cosa farei io oggi se dovessi partire completamente da zero per trovare clienti. Ovviamente, io oggi ho già delle abilità spendibili. E questo infatti è il primo punto. Se non abbiamo già delle competenze forti nel mercato in cui vogliamo lavorare, dobbiamo prima sviluppare. Quindi se oggi io partissi da zero, parto che ho già le competenze che mi servono. E quello che farei per trovare nuovi clienti sarebbe andare a cercare persone nel mercato in cui io voglio lavorare. Quindi io tendo a lavorare molto con content creator, con influencer, con personaggi di questo tipo. Sceglierei una serie di content creator con cui mi piacerebbe lavorare. e poi farei un lavoro di analisi su tutto quello che è il loro ecosistema. Quindi mi studierei se hanno o non hanno dei prodotti, se hanno o non hanno dei funnel, come comunicano sul loro sito web, come comunicano i loro prodotti. E creerei un piano strategico di quello che secondo me si potrebbe fare per ideare dei prodotti, per creare un nuovo prodotto, per strutturare un funnel, strutturare un piano comunicativo. E poi contatterei questi content creator per provare a costruire qualcosa insieme. Magari all'inizio proponendomi di lavorare a performance. Quindi dopo questo dipende da caso a caso, dipende dalle situazioni economiche, da quanto è lungo il lavoro che dobbiamo fare. Però questo è quello che farei. Ed è quello che farei anche in realtà se dovessi ad esempio trovarmi dei clienti come social media manager o come agenzia di marketing. Quello che farei sarebbe la stessa identica cosa in altri ambiti. Se volessi trovare delle attività locali con cui lavorare, analizzerei le attività con cui vorrei lavorare all'interno della mia città. Gli analizzerei il sito web, gli analizzerei la comunicazione, gli analizzerei il sistema con cui fanno login sul sito web. Insomma, farei un'analisi di tutto quello che non funziona e strutturerei un piano d'azione di quello che potrei fare e di come questo migliorerà il loro business. Questo è esattamente quello che farei se partissi completamente da zero per trovare nuovi clienti, trovare nuove persone a cui fare consulenza. Ovviamente questo presuppone, come dicevamo poco fa, di avere delle competenze molto forti nell'ambito in cui vogliamo lavorare. Comunque, per questo video è tutto. Continuerò, o almeno proverò, continuare questa serie su come ottenere lead, come ottenere vendita, visto che è una delle cose che mi viene più chiesta in assoluto ed effettivamente anche una delle cose più importanti in questo lavoro. vi lascio in descrizione trovate tutti i link sia a Scientific Selling che al mio canale Telegram che alla mia newsletter per rimanere in contatto con i miei contenuti, con me, con tutto quello che organizzeremo in futuro. Comunque, per questo video è tutto. Noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video.